Anima mia La casa tua La casa tua Si aspetterà Dovessi odiare Questo podcast Non mi sento molto bene Rispetto per gli anziani Rispetto per gli anziani Mi serve una trasmissione Da vedere Il punto di morte Sono a casa In catene Gli altri escono tutti insieme Ecco un podcast Che presto cambia la mia sorte Cerperò Pop 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 podcast Cerperò Pop 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 podcast Ma rannichilisce i debè E i murla Rana 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 Cerperò Pop 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 podcast Tu non mi vuole stinguersi Tenteste per un cervero Cervero Pop 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 podcast Raffirò Pop 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 podcast Cerperò Pop 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 podcast Ma rannichilisce i debè E i murla Rana 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 Cervero Pol pop 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 пов Cerperò 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 Hello Gli è entrato proprio con un faccio Tutto bene? No Hello Closciardini E benvenuti In questa nuova trasmissione Sti vecchi di merda Rispetto per i vecchi Ma cosa vogliono Cioè vogliono addirittura avere un'opinione Questi vecchi Vogliono addirittura dopo una vita di sacrifici Contare almeno qualcosa prima di crepare Come si permettono Questi vecchi di merda Quindi tu non puoi votare Pubblicità Quella volta Era vero Stiamo laggando Poco poco Io sono stufo Si evince da questo mio abitamento Di cosa sei stufo Sono stufo Io sono stufo Di tutto Anche della vita Soprattutto Ma che è sto valser Ma è tuo No Ti pare che io ascolti musica di qualità Punto Vabbè Comunque Proposta di Grillo O forse potremmo dire Sparata O forse no Parla di Grillo Ma perché voglio parlare di Grillo Cioè io voglio parlare Ancora di Nick Radogna Dove parlare di Grillo Per questo è un podcast Anche serio Dobbiamo far finta Di trattare argomenti seri Ma farlo in maniera becera Altrimenti poi non ci prendono più sul serio Capito Non ci intervista più Montemagno Ah no Intervista anche i tiktoker No ma dobbiamo fare Dobbiamo fare Vede quello degli Enes No questo è meglio Questo è meglio Av post Av post è meglio Stamolla No ma Ma il video c'è Certo Mettiamo il video Grillo Radogna Alto e basso Ma naturalmente Naturalmente Alto e basso Siamo al top Siamo veramente al top Iniziamo questa puntata bene Con questa Ma intanto così Proprio così Proprio Tanto per partire a bomba Quando tu hai letto questo titolo Grillo Due punti Via il voto Gli anziani Che cosa hai pensato Ogni giorno è buono Ho pensato cringe Sì E non sono d'accordo Sulla sola frase Ok Non ho approfondito Ovviamente Ok Ho letto un po' l'articolo Mi hai mandato tu Però è molto tecnico Io ho detto Ma che a me Che cazzo Lo leggiamo assieme Grazie alla nostra Tecnica chat Arriveremo ad una conclusione Sì La tecnica chat È fondamentale Ciao Zenzi Ciao Zenzi Che vuol dire Ciao Zenzi Metti un po' camera 1 Ma che cazzo Ma scus Ma non c'è Ma scus Io sono stufo Vediamo sti debba Scombo È qui La cantata preferita Da Livio Marcone Dove Ma dove si trovano Questi Dove si trovano Questi luoghi Dove La decenza umana Va A morire Ditto da noi Ma noi siamo Molto decenti Questo è proprio Un frontman Con questo intervistatore Ma una tenuta Da top frontman Ci stava Ma noi siamo I primi Il nostro gioco Sì Quante ore ci sono In 180 minuti Posso riflettere Vero Mettono pure La soluzione In caso Non fosse chiaro Sanno bene Che il loro pubblico È a questo livello Quanta ore? No 8 ore 190 Non può essere Quante ore In 180 minuti Mi stai prendendo Per il culo Che possibile Di un trabocchietto Ma voi mi sta dividendo Per il culo 200 ore Che ha detto 200 ore In 180 Culo Che possibile Che sono le ore In 180 minuti Dai Non è uno scherzo 200 200 minuti Ma è uno scherzo Questo Ah tu Sapere l'ora Di 180 minuti 6 e 6 Sono due ore Due ore e mezza Metti ore Due ore e mezza Ho finito il cappellino No è sbagliato Oh minchia Questa c'è una faccia Troppo simpatica C'è un mix Tra Luca Ravenna E Jim Carly Degli apostoli Per 5 Capito 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 Gli apostoli Per Moltiplicami il numero Gli apostoli Per 5 Gli apostoli Quanti sono? 30 apostoli Gli apostoli Sono 12 Se non mi sbaglio Per 5 Sono 25 Vai 12 Per 5 5 per 2 Quanto fa 10 Giusto 5 per 1 Fa 5 Quindi 510 Ma god È possibile che No Io non c'ho parole Vabbè stanno un po' modificati Io pensavo che ci arrivava questo Stanno un po' modificati 5 per 1 5 per 1 5 per 2 Fa 5 5 per 10 Fa 50 50 più 10 Fa 60 Non so che cazzo ho detto Però si ci sono arrivato 510 apostoli Quante stagioni ci sono in un anno? In un anno 12 I mesi? 12 Quante stagioni? Stagioni Saranno 6 stagioni La cosa La cosa geniale Deve questo servizio È che È un semplice Sconvolt quiz Che lui fa sempre Però ci hanno messo Sopra Beppe Grillo Doviamo i voti agli anziani Per far vedere I giovani Non ti sono incoglioni Dice Voi veramente Volevi togliere il voto Agli anziani E lasciarlo solo ai giovani Vabbè ovviamente Diciamo che Non ha molto senso Perché vai in una discoteca Con gente modificata Con gente ignorante E tagli il servizio In modo che resti Solo gli imbecilli È al pari Di andare ad un ospizio Dove ci sono I vecchi Con l'Alzheimer E fare delle domande Sì No ovvio È chiaro Però vabbè Questo qua è un format Lui che lo ha sempre fatto Sì sì No ma è simpatico lui Sei invitato ufficialmente Al Cerbero Podcast Jim Carrey Dell'Eurospin Invitiamo pure Jim Carrey stesso Sì sicuramente Proprio Ma ce l'abbiamo già Il nostro Jim Carrey No voi avete Robbie Williams Perché m'ammazzo Vabbè pure Jim Carrey Sta lì lì Vabbè abbiamo tirato No Jim Carrey ha avuto Una svolta mistica Sì sì Non penso a mazzi Estate In Bavere Inverno Bella stai Somma mi agli anni di Cristo Il giorno del prossimo Natale Il prossimo In che senso? Quando è Natale? Questa domanda comunque è strana Il giorno del prossimo Natale Che vuol dire? Magari impia pure il giorno della settimana Che cazzo ne so Il giorno del prossimo Natale Di ogni Natale Appunto Il giorno è 25 sempre E' certo Non è che il prossimo E' appunto Il prossimo implica come Perché quella prima che era Ma è fatta apposta E' trabocchetto Entro un dicembre Mi prendi l'età di Cristo Di oggi O di quando è morto? 1099 più 3 2000 2001 2002 E' dura E' dura E' dura Ah più 3 più 3 C'è dolore 1299 1100 1101 1150 1099 Fa 2000 Giusto più 1 No 2 milioni cazzo Allora mi devi sommare Il numero del mese Più il giorno Del prossimo Natale 25 più L'esorcista Ah no questo è Scusami Goblin Sospira Dicembre è il 25esimo Quando cade Natale Il Il 23 dicembre Barry Lyndon Cioè ma non sapere Quando è Natale Ma pure le stagioni Cioè ma che cazzo C'è nel cervello Ma stanno proprio Modificati a livelli chitanici No di più Sì Io penso che al chitano Gli chiedi che giorno è Natale Stanno modificati tipo Dipende in che momento Secondo me Però sai qual è il fatto Che No aspetta A livelli chitanici però Sì Chitano E' comunque Immune E ormai lui è immune Capito Lui non saprebbe rispondere Se fosse Normale Normale Sì In uno stato sobrio Il chitano non saprebbe rispondere Però un livello chitanico Per una persona normale E' devastante Il 24 dicembre Il 23 dicembre Il 24 Il 23 Quando c'è l'ultimo dell'anno Che non mi ricordo Il primo gennaio Il primo dell'anno Quando è scusa Sempre il primo gennaio Eh no Se il primo dell'anno È il primo gennaio L'ultimo dell'anno Sarà il Due No A quest'ora qua Non ti sto rispondendo Ma come? No Ok E sopra Beppe Grillo Vabbè Top top Cioè questo è un servizio vecchio No ma sarà pure nuovo eh Dicono questo servizio è vecchio Ah L'hanno proprio Messo per dar contro Grillo Perché loro sono Berlusconiani Leggiamo una roba seria adesso Papa Berlusca Si arrabbiava Se no Papà Bergoglio Aff boss Togliamo il voto agli anziani Beppe Grillo lancia l'idea Io Eh Appena letta Questa Titolazione giornalistica Ho detto tra me e me Ma che cazzo sta di Sto frontman Che effettivamente Grillo è un frontman Poi però Ho riflettuto E devo dire che questa Provocazione non mi sembra Così assurda Io ho letto Che Grillo spara 700 stronzate al giorno Quindi magari ogni tanto Qualcuno la zecca Ma andiamo a leggere Di fronte ai dati Che ho letto anche io Cioè ovvio che ha senso Ma il fatto che abbia senso Vuol dire che sia moralmente giusto Ma penso che sì No ma infatti Credo che sia più che altro Una provocazione Il fondatore Movimento 5 Stelle Sul blog Nessuna discriminazione Se un quindicenne Non può prendere una decisione Per il proprio futuro Perché può farlo Chi questo futuro Non lo vedrà Togliamo il voto Agli anziani Se un quindicenne Non può prendere una roba L'abbiamo letto Dal suo blog Beppe Grillo Lancia l'idea proposta Dal filosofo E economista belga Philip Rick Duffer Van Parij Di eliminare il diritto Di voto Ad una certa età Oppure dare ai genitori Voti per procura Per ciascuno Dei loro figli A carico Una proposta Per una democrazia Più efficace Scrive il fondatore Del Movimento 5 Stelle Sul suo blog L'idea nasce Dal presupposto Che una volta raggiunta A una certa età I cittadini Saranno meno preoccupati Del futuro sociale E questo è fattuale Politico ed economico Rispetto alle generazioni Più giovini E molto meno propensi A sopportare Le conseguenze A lungo termine Delle decisioni politiche Questo è vero però Cioè molto spesso I leader Hanno fomentato Questi istinti Momentanei Senza preoccuparsi Del futuro dell'Italia Non soltanto Per accontentare L'elettorato vecchio Ma è anche vero Che molto spesso È quello che vota di più Quindi quello più influente Gli elettori sono in larga misura Guidati dal proprio interesse personale Tutti Cioè si vota per interesse personale E l'affluenza relativa Bassa Degli elettori più giovani Può essere in parte causata Dal sentirsi alienati Da un sistema politico Gestito da persone Che non considerano Della loro stessa natura Grillo Grillo riporta alcuni dati Quelli dell'Istat Sull'invecchiamento progressivo Della popolazione in Italia Quelli che indicano Lo scarso interesse Della popolazione più anziana Verso il progresso Ma anche Verso la politica Beh il progresso Va di pari passo Con la politica Come fai ad attuare Riforme progressiste Senza la politica Certo Secondo Peppe Grillo Non si pone un tema Di discriminazione Fondata sull'età Sarà sufficiente Un preavviso Di 5 anni E' falso Affinché vi sia discriminazione Vi deve essere Un trattamento diverso Tra due o più gruppi Identità Basato su alcune Caratteristiche Arbitrarie In questo caso Le politiche Differenziate per età Non dividono La popolazione In due o più gruppi Poiché tutti Alla fine Diventiamo anziani Quindi Grillo Un po' più vota Quindi non c'è ingiustizia Gli anziani Non sono un gruppo Che può essere discriminato Come per sesso Etnie O scelte sessuali Tutti diventiamo Ugualmente anziani Pertanto Una regola Che tratta gli anziani In modo diverso Dal resto della popolazione Influencerà tutti Allo stesso modo Questa è una top logica Comunque E' una cazzata No è logica E' logica Ma è una cazzata A livello pratico Proprio No Non è che è una cazzata A livello pratico A livello Semmai Etico Eh A livello Però Infatti ho parlato De logica Sì ovvio Tutti invecchiamo Che stronzata è Come tutti No Lui sta rispondendo A chi l'ha accusato Di fare delle discriminazioni Il fatto che tutti invecchiamo Non significa che siamo tutti uguali E togliere il voto Anche ad anziani Che non rispettano Questa descrizione È altamente ingiusto A parte che Stai togliendo Di diritti Comunque A tuoi cittadini Non è come la stessa cosa Di arrivare alla maggior età E votare Non deve poter esistere Un limite Di età Perché io posso pure Vivere 120 anni 110 E mi togli il voto A 60 Per metà della mia vita Mi togli il voto Ma lo levi comunque A chiunque Eh no Non è giusto Dai 60 E' chiaro ripeto Che questa rimane Una provocazione Però voglio capire Dove Arriva Cioè qual è L'intento Forse quello Di responsabilizzare Di più gli anziani Di responsabilizzare Di più i giovani Comunque sì Ragazzi Dobbiamo un attimo Vedere il layout Che sta dando dei problemi Non si vede Nella chat Nei sub Comunque grazie a chi si sub Con un previsto Dall'attuazione di 5 anni Ad esempio Anche gli anziani di oggi Non si sentirebbero Messi in castigo Le reazioni Togli il voto agli anziani Facciamo dei sondaggi Vediamo qual è L'orientamento di voto E poi decidiamo Lo ha detto Erionicamente Il premio Giuseppe Conte Grillo è da ricovero Il primo commento Di Matteo Salvini La tocca piano Come al solito In diretta a Facebook Da piazza San Giovanni A Roma Dove domani Si darà la manifestazione Nel centrodestra Perché non togliamo Il voto A chi è colpevole Di reati gravi Eh Di stupro Di immigrazione Clandestina Fosse in grillo Mi preoccuperei Di quello che è accaduto A lui E di chi sta intorno a lui Togliere il voto Agli anziani Insiste Salvini Che facciamo Sterminiamoli Ma che miseria umana Il governo Dei saggi Degli statisti Dei professoroni Per Giorgia Meloni Dovrebbe intervenire Sergio Mattarella Grillo non è un cittadino Qualsiasi Ma è il capo Del partito di maggioranza Relativa del Parlamento Il principale azionista Del governo Ormai Cinque Stelle Fa come cazzo gli pare Non è molto influente Grillo in realtà Al conto di quanto si dica Non è tollerabile Liquidare la sua proposta Di togliere il diritto Di voto agli anziani Come il delirio Di un folle O la battuta Di un comico Vabbè Però comunque È un'espressione Della sua opinione Cioè Può essere benissimo Una stronzata Però Mi sembra un po' Eccessivo Beh scusa Non sei duro Che dice Che le persone Devono essere responsabili Le proprie cariche Grillo non ha nessuna carica Grillo non ha nessuna carica È a capo Di un A capo di un cazzo Ormai sì Ormai il partito di cinque stelle Fa quello che vuole Da mo che si è scisso È una figura Influentissima È come dire Gesù Cristo Vabbè ma è una sua opinione È una sua provocazione Ci sta a provocare Chiunque può dire Qualsiasi cosa Ma pure Salvini E poi soprattutto Il discorso che fai tu Relativo alla responsabilità In che modo Potrebbe danneggiare Qualcuno Questa dichiarazione Nessuno Che danno può fare Una dichiarazione Un genere Zero È innocuazzi Ok La leader Di Fratelli d'Italia Chiede una presa Di distanza chiara Anche da parte del presidente Del consiglio Giuseppe Conte Del ministro degli esteri Luigi Di Maio Del 5 Stelle Chi rimane in silenzio È d'accordo con Grillo Spero stia scherzando Altrimenti siamo alla follia Commenta Clemente Mastella Ancora Ancora campa questo Sindaco Sindaco di Benevento E poi se pensa I giovani Che frequentavano Il figlio di Grillo Che hanno da quanto letto Violentato una ragazza milanese Vabbè Che cazzo c'entra Diecimila volte Meglio Vabbè Diecimila volte Il voto agli anziani Vabbè Leggiamo invece C'è un altro articolo Che dà ragione A questa sparata Voto agli anziani Per me Il ragionamento di Grillo Non fa una grinza Certo Diciamo Esplicitamente Che proviene Dal fatto quotidiano Che storicamente È sempre stato vicino a Grillo Al momento 5 Stelle Quindi bisogna precisarlo Con Giuseppe Grillo Per dare le conseguenze A lungo termine Delle decisioni politiche Scendiamo per cortesia Da 1 vale 1 Alla castrazione elettorale Mirata La strada non è breve Ma non siamo oggi I protagonisti Di un'epica Che esalta A velocità di pensiero Azione E comunicazione Un archetipo Che nessuna Filosofia slow Riesce a disturbare E il ragionamento di Grillo Non fa una grinza Gli anziani Che non votano Sono già molti Qualcuno Perché è talmente vecchio Da non muoversi più Nemmeno assistito Altri Per lunga esperienza Esistenziale Sono delusi Dalla vita personale E collettiva E soprattutto Dalla vita politica Se non sono Del tutto ostile Alla politica Ne sono insoddisfatti Beh Mi sembra che siano Un po' tutti Insoddisfatti Dalla politica italiana Comunque Da quando sono nati Sentono proclamare Da ogni governo Qualunque sia il colore L'impegno riformatore Ma Forse perché la memoria Senile È un collaborato frattale Non ricordano Alcuna riforma Che in Italia Abbia trasgredito La legge di Murphy E quasi tutti gli anziani Compresi gli allievi Della scuola elementare Guglielmo Marconi Degli anni 50 Sono un po' nostalgici Del tempo che fu Soprattutto se genovesi Quando non si calano Addirittura Nel ruolo di Laudator Temporis Actis Il lodatore Del tempo passato Orazio Sottospecie Del gufo Di Renziana Memoria Ma che cazzo Sta a dire St'articolo Ma chi è? Questo si sta a fare E pippe Con Il Con il dizionario Del latino Nelle elezioni politiche Vogliamo sentire le cose Dette semplici Che siamo stupidi Quest'Alvini Già l'ho letto prima Nelle elezioni politiche Del 2018 Circa il 30% Degli elettori Non ha votato Gli italiani Degli anni 2000 Sono meno affezionati Al voto Rispetto ai loro nonni Del primo dopoguerra Ma gli over 65 Che si sono astenuti Sono il 34% Contro il 30% Dei potenziali votanti Con meno di 34 anni Mentre solo il 28% Della corte di mezzo Ha bigiato La cabina elettorale Forse perché Più sensibile Alla ruota del potere Gli anziani Si stanno già Stenendo dal futuro Spontaneamente Sempre che la politica Degli anni 2000 Abbia davvero Uno sguardo Rivolto al futuro E non si limiti A svolgere Il ruolo Pur lodevole Del commercialista Attrattore strano Di molte politiche Nazionali E internazionali Del nuovo in legno Greta Thunberg Ha pochi dubbi In proposito All'europea di quest'anno Quasi il 44% Eh no Se andò troppo sopra Dove cazzo va? Ma è che sto uscendo Eccole Quasi il 44% Di Etienne Non ha votato Non è andata diversamente Nel resto dell'Unione Con una stensione complensiva Del 49,4% Un cittadino europeo Su due non vota Anche se Dopo anni di continua caduta La tendenza si è invertita L'affluenza della tornata precedente 2014 Era stata inferiore al 43% E dal 1994 in poi Si era sempre mantenuta Sotto il 50% Laddove Negli anni del sogno europeo Votavano 6 europei su 10 62% Nel 1979 Mamma mia come sto I giovani sotto i 25 anni Hanno fatto parte Del leone In questo rilancio Più 14 punti percentuali Sul 2014 Eppure i 25 anni 39 anni Con più 12 punti percentuali Rispetto al 2014 Sono andati a votare In numero maggiore Rispetto al passato Al contrario Hanno votato Meno anziani di sempre In base all'indagine pubblicata Dall'Eurobarometro I giovani sono anche L'elettorato più mobile Che a meno di 24 anni È indeciso Su chi votare Nel 45% dei casi Mentre il 74% Degli anziani Non ha esitazioni Sul partito da votare Vabbè questo è comprensibile Come faccio ad abbonarmi? In alto a destra Ci sta il tasto Abbonati Puoi abbonarti con Twitch Con Amazon Prime Se non vuoi pagare Questo è comprensibile Perché giustamente Pensano al loro Orticello Diciamo di fine vita E quindi Si affidano totalmente Al partito più Conservatore E via Tipo Berlusconi Hanno votato per tantissimi anni La maggior parte Degli anziani Grazie Già stupendo Per dire Allora Anche perché Molto spesso Alcuni partiti Sono conciliatori Ok Tutto ciò che è Mantenere lo status quo È conciliatorio Per una persona anziana Invece il cambiamento Giustamente Non è preso Di buon grado Ma al giovane Manca comunque L'esperienza Di vita Per capire Se uno lo sta A piapere il culo Se è una cosa Già sarà detta E comunque Molte delle riforme Economiche Che si fanno Non intaccano Il giovane Giovane Ma cosa Aspetta Ma sta scherzando Che ancora Non è inserito Nel mondo Beh ma intaccano Il suo futuro Che è ancora peggiore No Dipende Ma sta scherzando Tutte le riforme economiche Che sono state fatte in Italia Anzi che non sono state fatte in Italia Hanno intaccato tutti i giovani Ma sta scherzando Il giovane che non produce nulla Ma in futuro diventerà una persona In futuro avrà altre cose Qui si parla di riforme No Ma le riforme mica durano un mese Si parla di riforme lunghe Appunto I giovani Deve essere pronti a Cioè i giovani sono più propensi a Ma magari stringer culo Questa è la cosa Cioè il vecchio Qui questo articolo dice Che si rifiuta Di approvare Delle magari riforme A lungo termine Sì Che dicono che magari Queste riforme a lungo termine Potrebbero significare anche Tipo aumentiamo l'IVA Perché poi la abbassiamo Aumentiamo questo Perché poi la abbassiamo Molto semplicemente sì Se magari un partito propone Una riforma O un insieme di riforme O un progetto Che ha una durata di 10 anni 15 anni Anche economico Un vecchio non lo vota Perché dice Sono morto tra 20 anni Ma se è vantaggioso Che cosa cambia Perché muore Preferisce votare Il vantaggio a breve termine Eh quindi vuol dire Che è svantaggioso A breve termine Questo piano Ma sì La politica funziona così L'economia funziona così Non si può avere tutto e subito Ci sono delle cose Che si ottengono nel tempo Magari soffri per 3-4 anni E poi però Investendo Nel tempo ci rientra E poi quella è la cosa Allora è un paradosso Perché il giovane Che vota per una riforma A lungo termine Se è veramente giovane Giovane ripeto 18enne E non lavora Stanno ancora a quinto liceo Magari E lavorerà dopo 6 anni Di corso di laurea Quei 6 anni A lui non gli cambia Effettivamente un cazzo Cambierà ai suoi genitori Cambierà a chi già lavora Quando ha finito il corso De laurea Invece magari Già le cose saranno cambiate Ma è una cosa egoistica Verso chi invece Il prese lo manda avanti Ogni voto egoistico E allora diamolo Ai vecchi Allora è giusto Che i vecchi Votano per loro stessi Ma nell'egoismo Però bisogna comprendere Ciò che fa meno male al paese L'egoismo collettivo Ciò che fa male al paese È relativo È sempre relativo Perché tu non sai Come Dal punto di vista economico No Non è relativo Uno non è che può Può prevedere da qua A 10 anni No Ma la previsione infatti Non è sul cosa fare È su Chi vota E perché vota È sensato Il fatto che Io non ti dico che sono d'accordo Per me questa è una sparata Che il giovane È più propenso A non volere tutto subito Dove sta scritto È chiaro È chiaro Che è un ragazzo Ma come dici tu Magari ancora non è inserito Nel mondo del lavoro Quindi cerca Tenderà verso i partiti Che possono assicurargli Un futuro Lavorativo Economico Quale essere umano Preferisce Farsi il culo E poi ricevere Piuttosto che avere tutto subito Una persona In fin di vita C'è dolore Che dolore Dentro me C'è dolore È ciata prima Che Gianluca Stava un peccato Con le cose Ha fatto il Sub Anonymous Ha fatto il Ma lo sentono adesso Loro però Ha fatto il Sub Anonymous Ha fatto il Non è Non è proprio giornata Dicevo che Quale persona può essere questa Una persona che ha pochi anni Davanti a sé No io stavo dicendo invece Il contrario Anche chi ha molti anni Davanti a sé Preferirà una cosa subito Piuttosto che Non è vero Simone Se tu stai facendo Un percorso di laurea Sai che magari da qui Dici che cazzo me ne frega Allora Cioè Appunto è un discorso Egalmente egoistico Non è vero Se tu Ma perché devo dare Il contentino al giovane Che non fa un cazzo Ma vuoi mettere La differenza tra un diciottenne Che ha tutta la vita davanti E quindi ha tutto l'interesse Ma anche in termini Ma anche tutta L'inesperienza Di un diciottenne Ma già voti nei diciottenni Quindi Eh Già è dato per scontato Che sono in grado di votare Sì ma almeno Sono controbilanciati Da chi il paese L'ha vissuto Per tutta la sua cazzo di vita E ha prodotto E ha veramente Contribuito Al paese No un cojone sbarbato Perché c'è tutto Ma perché c'è tutto quest'odio Verso i giovani È una stronzata I vecchi di oggi È solo In contrapposizione I vecchi di domani Sono i giovani di oggi Non ha senso questo discorso Sto difendendo Sto difendendo i vecchi Mi sembri tipo Quei negozi Che mettono fuori l'affisso Cerchiamo Commessi con esperienza Non vuol dire nulla Ah sì Non ha senso questo discorso Io difendo I vecchi Attaccanti i giovani Allora Se tu Hai speranza In questo cazzo di paese Devi puntare sui giovani È l'unica speranza Io non ho speranza Puntare sui giovani Non significa Togli il voto ai vecchi Allora Questa è una stronzata Abbiamo già detto Che è una sparata È una cosa antidemocratica Va bene Però stiamo ragionando Per ipotesi Ok Che vuol dire Puntare sui giovani Che l'unica speranza Affinché questo paese di merda Possa ritrovare Una sua dignità Anche economica È quella Che i giovani Non siano così imbecilli Da fare ciò che hanno fatto I loro predecessori Negli ultimi 15 anni Rappresentati perfettamente Dalla classe politica E io ho più fiducia Doviamo avere fiducia Nel 2000 Ho più fiducia Sì Ho più fiducia In una generazione Di ragazzi Sicuramente avventati Senza esperienza Ma almeno Con dei valori Che poi col tempo Scompariranno Eccetera Piuttosto che In persone Che chiaramente Ormai sono Nichiliste E stanno vedendo Finire la loro vita E quindi giustamente Dal loro egoistico Punto di vista Voteranno Per la cosa Più conveniente A brevissimo termine E le cose No in realtà No È una cosa di vita Quindi c'è tipo Dovrebbero votare Gli studenti Ma non I loro professori Capito Non ha un cazzo di senso Come se tutti i vecchi Fossero dei rincoglioniti Nichilisti No non sono rincoglioniti Non stiamo parlando Infatti Ti ripeto Di questo Cioè per me È una stronzata È una cosa antidemocratica Punto Potrebbe pure finire qui Però visto che abbiamo Discusso in una live precedente Sul fatto di abbassare Eventualmente La so io Tu non eri d'accordo Io ero d'accordo Per altri motivi E va bene Stiamo valutando Per assurdo Questa cosa qui E ti dico A livello ipotetico Proprio estremo Può avere un suo senso Non l'attuerei mai Non l'attuerei mai Perché è antidemocratica Però non è così assurda Come dici E ripeto che L'Italia È un paese fallito Perché è un paese Che è sempre stato governato Da vecchi Questo è Questa è la verità I giovani sicuramente Fanno un sacco di stronzate Però perlomeno C'hanno ancora Non so se esiste Un paese al mondo Che è governato Non da vecchi Eh La voglia Tipo La maggior parte Dei paesi europei In realtà Cioè noi ci abbiamo Se non erro Vi dite le statistiche Noi ci abbiamo Sia all'interno Della classe politica Sia all'interno Di determinati lavori La maggior parte Di quelli Con un reddito più alto Sono tutti vecchi Taglia un po' Sta chat per qua Paese gerontocratico Esatto Gerontocratico Ma battena Quanti scappellotti Ti deterei Gerontocrate È vero Ah si ma guarda che Io ti dico Che tante Tante cose Che stiamo passando Oggi Sono state Sono sono Per colpa Di ciò che è stato Fatto nel passato A parte che io Ripeto Io dall'Italia Me ne vado proprio Me ne sbatto Per cazzo Allora non puoi manco Farsi i discorsi Me ne sbatto Per cazzo Allora Sei proprio L'esempio Di quello che stava Di prima Qui si sta parlando Non è che sono Che sono obbligato A rimanere No 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 Questa è un'ipotesi Per assurdo Ok ti ripeto Stavamo mettendo sul piatto Ciò che ipoteticamente Ciò che ipoteticamente Potrebbe rendere di più Per l'Italia Ok per la crescita Di questo paesucolo Bene In maniera ipotetica Non è così stupida Questa sparata Perché effettivamente È chiaro Che una persona anziana Andrà in quella direzione Lo capisco È comprensibile Però Non levere mai il voto Perché comunque Non è democratico Ovviamente E poi Non è nemmeno detto Che tutti i vecchi Votino Cazzo è Non è nemmeno detto Che tutti i vecchi Votino Con questa mentalità Un vecchio potrebbe anche dire Voglio assicurare un futuro A mio nipote O mio figlio Certo Quindi c'è da dire questo Tutti i vecchi Vede la cassa Io Sono sottili I migrati Vanno schifo Non è mica Un negromante Io comunque Sono d'accordo A far Sarei d'accordo A far votare Tramite un test D'ammissione Alla cabina elettorale Vabbè Ancora sta vecchia storia In Italia c'è troppo paternalismo Fiducia Fiducia Zero Nei giovani Mara Senco Ione Simone tutti a cazzo Duro per Luca Lavenna Sì alle 21 ragazzi Stasera alle 21 Il discorso è semplice In Italia i giovani Non conoscono la politica Sono completamente ignoranti In materia Vabbè ma anche molti vecchi So così eh Ignorano Vabbè educare medesime Altrimenti ogni voto è dato Senza altri fondamenti necessari La maggioranza dei vecchi Retrograda Si può fare Con sondaggio Chiedere alle persone Per 70 Se rieleggerebbero Berlusconi Spoiler quasi tutti Quindi dare la propria fiducia Ai giovani e ai vecchi A cui gliene importa Solo di stare bene Nelle loro case di cura Rega su via Si arriva Vabbè questa penso Che sia comunque Una diatriba incolmabile Un po' come quella Per il voto ai giovani No? Certo Quindi diciamo che Io mi sono limitato A fare un ragionamento Così Ipotetico Ma Non cambiere mai La legge Ma quanti video Vanno eliminati Ma sì ma che stai a fare? Ma chi è? Ma questa è una trasmissione Sì ma che stai a combinar? Basi cedro Pippo solo Ma non è cazzo Ne prego Richard Benson Pum Vogliamo condurre Questa trasmissione Pum Aspetti Pimbo Lola No questo Questo lo lascio Vabbè non la Pum Volpeo No questo può servire Svuota cestino Oh finalmente Un membro del cerbero decente Anziani Ma io voglio bene Voglio bene Ma Prova Mi avete combinato Oddio Vabbè Bella ragazzi Ci vediamo stasera Alle Cioè vi vedete Alle 21 Io ora vado a A scopare Magari Delle vecchie Vado a cercare un cappio Sto avendo problemi Dissociati Dissociati Induzione a Un cappero Molta fame Ah ok Ciao ragazzi Ma oggi abbiamo Fatto tanto Beh Sto è durato 5 minuti Stavolta Ciao Akuma Ciao Akuma Maestro Ma Vogliamo arrivare a Cioè Capito Vogliamo Vogliamo Da quanta che siamo in live Da 38 minuti Va benissimo Così È una puntata veloce Da ricaricare subito Su youtube Stasera A ore 21 Luca la viena Intervista Davvero Forse Vabbè Ma io continuerei anche Non mi sento molto bene Tutù Allora c'è sta Nasi Luigi Che dice Tutubi ma che cazzolini Se il paese è così È anche colpa tua Ovvio no Cioè io da quando sono nato Proprio Ho fatto ammalare il paese Capito La mia Proprio la mia sola presenza In questo paese Lo rovina Mio Solo io Che cazzo te ridi Che cazzo me ridi Sto baleno Ma batte un affanculo Imbecille Sarei pure sub Ma te ne viena Un affanculo Iscriviti Aguma Ma che cazzo Spanni Che cazzo Cioè Non si fa così Comunque si Scriviti Al chiamare di Aguma Ma che cazzo Cerbero Spopopopopodcast Tutubi vuole Stinguersi Tendeste per un cerbero Cerbero Spopopopodcast Proprio In questo mondo Non sarà Un clocher Ma io continuerei anche Yeah